Un saluto dal Tg della Mobilità. Venerdì è in programma uno sciopero del trasporto pubblico locale a Roma e nel Lazio saranno interessate le linee di Atac, Roma TPL e Cotral. Stop saranno possibili dalle 8.30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio. Nella notte tra domani e venerdì possibili disagi sulle linee di bus N. La protesta di venerdì potrà avere ripercussioni anche sulle attività al pubblico di Roma Servizi per la Mobilità come lo sportello permessi. Grazie a tutti.